La devozione per San Pio da Pietrelcina non tramonta mai, soprattutto nella sua terra natale. Siamo in provincia di Benevento, in frazione lentace di San Martino Sannita, luogo caro ai fedeli della zona per il presidio dedicato a San Michele. Per un'ormai consolidata tradizione, questo posto raccoglie anche la devozione a Padre Pio, che in più occasioni ebbe modo di mostrare la sua venerazione per l'Arcangelo. Dopo la riapertura della Chiesa, chiusa al culto per quasi 40 anni a causa dei danni provocati dal terremoto dell'Ottanta, i fedeli del luogo hanno ricollocato l'effigie del Santo del Gargano per favorirne la pubblica venerazione. Per l'occasione, sul luogo si è recato il Vicario Generale della Diocesi di Benevento, Monsignor Franco Iampietro, che ha presieduto il rito di benedizione della statua. Chiaramente la devozione a Padre Pio è ormai universale, però la terra che gli ha dato i Natali chiaramente ha un legame particolare con Padre Pio, per cui queste manifestazioni piccole, grandi, di spiritualità e qualche volta anche di folclore, si moltiplicano continuamente tutte le nostre zone. Però è un onore per la terra beneventana aver dato chiaramente i Natali a San Pio e speriamo che diventa anche uno stimolo a rinnovarsi nella fede sul suo esempio. Una breve processione è partita dal luogo che ha custodito per anni la statua di Padre Pio per giungere nel nuovo sito, precedentemente allestito dalla comunità locale. Qui, sul sagrato della Chiesa, è stata collocata e benedetta l'effigie. Successivamente, Monsignor Iampietro ha presieduto la celebrazione eucaristica animata dalle sorelle consacrate del GAM, figlie della donna vestita di sole. Monsignor Iampietro Testimone del Vangelo, devoto di Maria Santissima e di San Michele. Il suo rapporto con l'Arcangelo è un esempio di come l'amicizia spirituale può essere un rimedio per allontanare il male e andare incontro a Gesù. Così si celebra l'incontro tra Padre Pio da Pietrelicina e l'Arcangelo Michele, dalla provvidenza voluto presso il Gargano, ma anticipato sul colle dell'Angelo, a San Martino Sannita. Allentace, una frazione di San Martino Sannita, dove era già sentita dal nostro amatissimo parroco don Antonio di Gaeta, che fece mettere questa statua in un luogo che purtroppo per il problema del terremoto questa chiesa fu chiusa e quindi collocarono questa statua vicino a un prefabbricato per il culto di San Pio, che oltretutto, come tutti sanno, è molto collegato con San Michele Arcangelo, quale noi devoti da vecchia generazione. Come vedete abbiamo spostato da quella collocazione a questa collocazione perché purtroppo per atti di vandalismo oggi abbiamo realizzato quest'opera con un materiale proveniente anche da un altro eramo di Padre Pio, quello di Foglianise, dove c'è un altro ermo di San Michele Arcangelo e abbiamo recuperato questa pietra dove abbiamo posizionato San Pio da Pietrelcina. Una cosa molto, diciamo, modesta. E' questo piccolo borgo che ha voluto rinnovare questa, diciamo, amicizia tra San Pio e San Michele, così come sul Gargano, anche in questo piccolo borgo, lo abbiamo voluto omaggiare. E quindi oggi, spostandolo da dove si trovava precedentemente, mettendolo qui nella nostra piazzetta, agli occhi di tutti, quando passiamo ci veglierà su di noi.